Avete sicuramente incontrato tipi del genere quando guardate un programma o una serie tv Adesso lo tradisce Ma mi hai detto il finale? Sì, l'ho visto tre volte Anna, ma stai piangendo per i puffi? Due, i puffi due Che stai guardando? Ragazzi, devo fare pipì Non mettete pausa perché arrivo subito, lo giuro Tranquillo, tanto questa puntata l'ho già vista otto volte Questa è la nuna Ugo ha alzato il soffacciglio come nella seconda serie Mi fa morire questo Aspetta, torna indietro, non ho capito Più indietro, più indietro Parti proprio dall'inizio Oh, e basta Poi te lo guardi da solo Può ripetere, non ho capito